Te ne vai a sinistra e poi diretto a destra. Tieni sulle mani. Bravo, così. Tieni sulle mani. Tieni sulle mani. Gira a sinistra, eh. Adesso quattro colpi tu a destra. Bravo, così. Quattro colpi dritti. Massimo, uno, due e poi montante e gancio diretto, ok? Uno, due, vai indietro. Montante e gancio diretto. Dai, diretto al tronco e gancio, così. Sì, così, forte. Vai montanti, vai montanti. Minca, non vedo un cazzo. Quando sei vicino, montante e gancio diretto forte. Destro e diretto, subito. Massimo, diretto incrociato. Massimo, incrocia subito il diretto destro. Diretto destro al tronco, così. Così, chiuditi, stringi. Stringi, stringi. Diretto destro al viso. Subito. Così, sciolto. Sciolto e veloce. Sciolto e veloce. Sciolto e veloce. Sciolto e veloce. Così. Diretto destro. Bravo. Destro, gancio destro. Massimo, destro. Destro, gancio destro. Destro, gancio destro. Rapido. E vai indietro. Vai indietro. Montante. Monta, vai subito. Vai, vai ora. Che all'angolo. Massimo, chiuditi. Rientra subito. Destro, gancio destro. Dai. Incrocia il destro subito. Così. Uno, due. Passo indietro. Bravo. Lega, lega. Bravo. Bravo. Destro, gancio destro. Rapido. Rapido il destro. Rapido. Quando abbassa le mani. Bravo, bravo, bravo. Tieni. Bravo, abbiamo trovato il bandolo della matassa. Bravo. In qualche contesto. Bravo. Bravo. Abbiamo trovato il bandolo della matassa.